Sono negli uffici del Salone del Mobile. Decisione difficile cosa fare in questo momento così particolare per Milano. Abbiamo deciso di rinviare di un paio di mesi, esattamente l'apertura del Salone quindi sarà il 16 giugno. Io però ringrazio per questa prova di fiducia. Noi dobbiamo confrontarci con il virus e sconfiggere il virus ma dobbiamo anche confrontarci con il virus della sfiducia. Milano non si ferma, non si ferma in tutte le sue componenti per cui grazie agli operatori che ci saranno. Chiedo però una mano al governo e un appello particolare stasera agli albergatori. Attenzione quest'anno però vi chiedo rispetto ai prezzi delle camere di dare una mano anche voi. Buona serata a tutti.